Serata da tutto esaurito allo Yachting Club e con lo psicoanalista Massimo Recalcati, ospite dell'angolo della conversazione 2023, uno degli appuntamenti più attesi del programma messo a punto da Daniela Musolino e Gianluca Piotti. Introdotto dalla stessa Musolino e dalla presidente della BCC di San Marzano, Emanuele di Palma, Recalcati ha tenuto banco per due ore con un Alexio Magistralis, che ha trasportato gli spettatori nelle pieghe della vita umana sotto la guida della psicoanalisi, riflettendo sulla nostalgia e il dolore provocato dall'impossibilità del ritorno. I due volti della nostalgia è il titolo dell'ultimo libro dello psicoanalista, che a fine serata ha dialogato con il pubblico. Ma sentiamo al microfono del nostro direttore editoriale Pierangelo Puzzolo, il presidente della BCC di San Marzano, Emanuele di Palma e la padrona di casa, Daniela Musolino. Grandi autori quest'anno, siamo stati particolarmente fortunati, devo dire anche un po' bravi, perché non è facilissimo far venire nella nostra terra personaggi del calibro di Massimo Recalcati. Una bella estate, un'estate importante, questa sera qui all'Oiottica abbiamo oltre 400 presenze ad ascoltare Massimo Recalcati. Siamo veramente felici di aver imbroccato una stagione culturale veramente di primissimo livello. Il professor Recalcati credo che è conosciuto da tantissimi, da anni che lo inseguivamo, e sono soddisfattissima che ce l'abbiamo fatta, perché credo che sarà una serata veramente, questa lezione magistrale sarà veramente una serata importantissima.